Quando sono arrivata qui sono rimasta sorpresa quando ho visto la Coca-Cola messicana nel menù ed era anche più costosa. Ho deciso di scoprire perché gli americani pagherebbero di più per la Coca-Cola messicana. Ho comprato entrambe. La prima differenza è evidente. La Coca-Cola messicana viene fornita in una bottiglia di vetro e quella americana è in lattina. La differenza successiva sono gli ingredienti. I messicani usano lo zucchero di canna, mentre gli americani lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. E alcuni dicono che abbia un sapore chimico. Abbiamo deciso di testarlo noi stessi. Io e mio marito non abbiamo sentito la differenza di gusto. L'unica differenza che mi colpisce è che è più cool bere da una bottiglia di vetro. Pagheresti di più per la Coca-Cola messicana? Quale preferisci?